un evento alla cavallerizza costerà dal 30 al 40 per cento in meno con il nuovo tariffario approvato dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla cultura mia pisano per incentivare l'utilizzo di immobili pubblici da parte dei cittadini per la realizzazione di eventi conferenze e anche feste private il comune di lucca ha proposto alcune modifiche al tariffario tra le novità più significative arriva la differenziazione della spesa a seconda del periodo in cui è previsto lo svolgimento dell'evento la tariffa fa riferimento agli eventi che si svolgeranno dal 21 marzo al 21 ottobre la tariffa b dal 22 ottobre al 20 marzo di ogni anno l'assessore a pisano ricorda inoltre che sarà possibile l'assegnazione degli spazi a tariffe agevolate con uno sconto del 40 per cento e prezzi più bassi per eventi che hanno una durata maggiore tra gli immobili di proprietà del comune che sarà possibile richiedere c'è la cavallerizza di piazzale verdi già utilizzata da questa amministrazione per alcuni eventi villa bottini e le sue sale l'auditorium della piacasa il complesso san romano la saletta in corte dell'angelo l'orto botanico la gorà le casermette sulle mura urbane l'ex museo del fumetto e i sotterranei delle mura e una novità introdotta da questa amministrazione la chiesa di santa caterina